Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo, nuovo convegno di galoppo previsto per sabato 14, 35esima giornata, 6 corse in programma, occhi puntati sul premio Farsalo, la terza prova, si tratta di una condizionata con 11.000 euro di dotazione per cavalli di tre anni ed oltre che andranno a confrontarsi sui 1.400 metri della pista grande sotto clou, poi invece c'è il premio Cassandra, un handicap molto bello e molto intricato, quindi difficile pronostico, 9.900 euro la dotazione, ci sono i tre anni ed oltre impegnati sui 1.900 metri della pista sabbia, ma ci sono anche delle prove interessanti di contorno come per esempio una follata Reclamare che vede ben 14 soggetti di due anni, ma scenderemo tra poco nel dettaglio della corsa. Iniziamo a parlare del premio Borg, si tratta di un handicap di minima, subito tre anni al via sui 1.700 metri della pista grande. Just Run and Win, numero uno dello schieramento, fa bene sulla distanza a Roma, Siracusa riesce a trovare una piazza sulla velocità, ma l'ultima sui 1.300 metri in sabbia è assolutamente da cancellare. Poi c'è la linea dettata di recente da Happy Hour che si pone alle spalle by heaven, oggi i due tornano a confrontarsi, quella linea era sui 1.300 metri in sabbia, ma Happy Hour è una cavalla molto duttile e quindi riesce ad adattarsi in qualsiasi situazione, in qualsiasi schema di corsa, ritorna sui 1.700 metri, ritorna in erva dove fa comunque bene. E sulla base di questa linea, Bay heaven potrebbe essere una buona base da cui partire, anche perché perde da un'incollatura dalla femmina schierata da Marco Cuschieri, quindi di Happy Hour, tra l'altro con 60,5 kg a confronto dei 54,5 di Happy Hour. cavalla che comunque si adatta anche lei a questa distanza e a questo tracciato, quindi sicuramente potrebbe essere una buona idea. Boica è un cavallo che sicuramente si esprime meglio su un metraggio più breve, quindi cavallo che ha fatto bene sulla velocità, è rientrato il 30 settembre, finendo quindi vedremo se sarà progredito. Stolen Dance, un rientro dal 2 giugno, quando secondo Happy Hour, perdendo da un'incollatura sui 1.600 metri, sicuramente affronta una distanza attitudinale e quindi se rientra in condizione è una valida alternativa. e poi Nevermind chiude lo schieramento con il numero 6, bene dal rientro sulla velocità, prova ad allungrare a Siracusa sui 1.800 metri in sabbia, ci prova ma non riesce a piazzarsi. Stefano Bastante sarà in compagnia noi quest'oggi, quindi per esaminare le corse in programma e qui ci parla di Stolen Dance. Allora, in questa prima corsa siamo impegnati con il numero 5, Stolen Dance, è una cavalla molto discreta e in questo contesto si trova bene. Quelle che mi piacciono di più qua sono Happy Hour, anche se lei in sabbia l'ho vista meglio, e il numero 1 mi piace tanto. Proseguiamo col premio Raffaele Alberti, un handicap di minima per cavali di tre anni ed oltre, sui 1.700 metri della pista grande, sono in otto al via 2, sono i soggetti schierati dal team Cuscheri Cannella, Mythical Mill rientra da luglio quando confeziona un NP brusco, sulla distanza però sicuramente piazzamenti in handicap più qualitativi, non solo a Siracusa ma anche a Roma e quindi il peso tra l'altro dimostra la buona qualità di Mythical Mill. Star of Karina è molto bene a Napoli sui 1.600 metri, vince un buon handicap a inizio anno, poi riesce a piazzarsi a gennaio in un contesto altrettanto qualitativo, quindi se è in forma e se è in condizione i due di Cuscheri potrebbero dire la propria. Mexico Point vince il rientro, il 30 settembre viene ripresentato e capiremo se vale, magari i soggetti che qualitativamente parlando sono migliori di lui. Armageddon e Jubilee Queen sono i due soggetti schierati da Stefano Bastante, entrambi al rientro e quindi capiremo proprio con lo stesso allenatore a che punto della condizione stanno e quale sarà la loro chance. Secret Mountain, cavallo da più distanza, prova sul miglio dopo il quinto posto al rientro. Solare Orange un quarto posto nella prova risolta da Mexico Point, è una cavalla questa che comunque ha dei buoni mezzi e nel contesto può esprimerli. Ancora Blue Iram, altro cavallo molto duttile, rientra da luglio, cavallo che in passato si è sempre messo in evidenza in contesti più, su tracciati un po' più ammorbiditi, ma col passare degli anni invece si è ritrovato anche molto bene in terreni più scorrevoli. Ancora con Stefano Bastante, come vi dicevo, parliamo di Armageddon e Jubilee Queen. Il numero 5 è Jubilee Queen, è una cavalla da buoni mezzi. In questo contesto ci può stare benissimo. Il numero 1 piace anche che nonostante i 65,5 kg con questa categoria è superiore. il numero 3, Mexico Point, viene da una vittoria recente ed è un cavallo molto valido. Siamo giunti alla prova più dotata adesso del convegno, il premio Farsalo condizionata con 11.000 euro di dotazione, tre anni d'oltre al via sui 1.400 metri della pista grande, 9 agli ordini dello starter. Numero 1, Arcand, un quinto posto al rientro dopo un lungo stop sui prove a affrontare i 1.000 metri a Siracusa. Cavallo comunque dagli ottimi trascorsi romani, ricordiamoci che vince anche un handicap limitato, quindi sicuramente cavallo a cui i mezzi non mancano, questo maschio da arcano. Camon Captain per il team Cuscheri, così come snorkeling di cui parleremo dopo. Intanto proprio questo maschio da Acclamation allunga 1.400 metri, ha discreti riferimenti sulla distanza a Milano, un quarto posto di recente condizionata con 60 kg, sicuramente potrà giocarsela. Draglift ricorre dopo 15 giorni dopo il debutto a Siracusa, ricordiamo che si trattava della prima corsa in Italia, ma all'estero ha dei buoni riferimenti sulla velocità. Se è venuto avanti potrebbe essere della partita. Gio Condor rientra dal successo di inizio maggio incondizionato proprio su questa distanza e se è ripresentato al top, così come io suppongo, dall'allenatore, sicuramente potrà essere ancora molto insidioso. Lacoon invece è alla prima uscita in Italia, un cavallo che leggendo la carta sicuramente ha fatto molto meglio su distanze più selettive, addirittura si parla di oltre 3.000 metri, rientra da maggio, quindi vedremo come verrà presentato e come si adatterà invece a questa breve distanza. Mister Aulè, Aurelio, cavallo molto stimato, un tre anni che si misura con gli anziani, il cavallo che rientra da aprile ancora a Maiden, ma ha in curriculum una sfilza di piazze tra Milano, Roma e Pisa in contesti sicuramente qualitativi, ma con i coetanei. Ogalantuom, brutta l'ultima in handicap principale sui 2.100 metri, diciamo che sui 1.500 trova invece un'ottima performance in un handicap sempre con i tre anni, quindi lo vedremo a cospetto appunto degli anziani. Pausan, prima corsa a Siracusa, un ottimo piazzamento a luglio e Napoli in una condizionata da 6.500 euro, una linea con Frozen Juke, cavallo che ha fatto molto bene in Italia e quindi sicuramente va tenuto molto in considerazione. Poi snorkeling, quindi l'altro schierato da Marcus Chieri, rientra da maggio quando fallisce un tentativo in Lissed, ma Siracusa su questa distanza ha vinto le condizionate. Dicevo ancora con Stefano Bastante che ci parla di Gio Condor e valida questo campo partente. Allora, alle mie spalle abbiamo Gio Condor che è un cavallo che è partente nella terza corsa. Questo è un contesto abbastanza impegnativo, è una condizionata sui 1.400 e lui questa distanza ha fatto vedere di essere molto valido. Gli avversari sono molto validi anche. A me piace tanto Ogalantuomo, nonostante in questa distanza non ci ha corso ancora tanto e ha fatto vedere anche sul doppio chilometro. Il grigio di Cuschieri, il numero 9, mi piace tanto. Noi proviamo a fare una bella corsa. Premio PENTOTAL adesso, ma è a reclamare molto affollata che vede impegnati due anni sui 1.600 metri della vista grande. Come vi dicevo ad apertura sono in 14 al via diversi debutti, quello per esempio di Brivido Bay, di Hester Moon, di Ortigia Welcome, quindi ovviamente da verificare poi in pista. Per quanto abbiamo visto, abbiamo potuto vedere dalle poche riferimenti che abbiamo, diciamo che Chester Glory ha mostrato di avere delle buone potenzialità. Ghibellina è una cavalina molto regolare, potrebbe trovare il successo. Il Remiki era molto appoggiato quando debuttò, è una linea con Greater Queen, un buon secondo in Maiden. Diciamo che è meno bene l'ultima incondizionata, ma qui per quello che abbiamo visto ha sicuramente una chiara chance. Maybe Kessar, diciamo che è prova ad affrontare un metraggio un po' più lungo, dopo essersi confrontato sui 1.300 metri in sabbia al debutto. Ancora possiamo parlare di Interattivo, Interattivo che ha già trovato un successo, un cavallo in ordine, vince sui 1.300 metri, purtroppo un po' penalizzato allo steccato, visto che appunto ha preso il numero 14. E poi Refrigenio, una linea proprio con Interattivo, quello che sta correndo bene. L'ultima in Maiden sicuramente da cancellare, ha avuto qualche problema per cui non si è, diciamo, espresso come magari avrebbe dovuto, come si attendeva l'entourage. Per quanto riguarda gli ultimi due soggetti, parliamo del numero 13, Hunter, Antil Sunset e Zaffiro. Zaffiro è la prima uscita, quindi debutto assoluto in carriera, mentre Antil Sunset è un setto pomo posto sui 1.300 metri in sabbia, quindi prova a spostarsi e ad allungare un pochino la distanza. Abbiamo una voce fuori campo in questa circostanza, quella di Raffaele Gambino. Allora, in questa quarta corsa ti do il sicuramente netto favorito, il numero 8, questo di Carmelo Battoni, Remichi, che scende nettamente di categoria. Secondo me può mettere a tutti d'accordo. Come seconda alternativa ti do Interattivo, che secondo me a 1.600 può fare davvero bene. E poi da non sottovalutare il numero 12, Refrigenio, vedendo la penultima prestazione terzo incondizionata, può correre davvero bene. Difficilissimo nel pronostico, alla vigilia il premio Cassandra, quinta corsa in programma sotto clou del pomeriggio, 9.900 euro. La dotazione di questo handicap che vede i soggetti di tre anni ed oltre impegnati sui 1.900 metri della pista, sabbia 11 al via. La qualità sta in alto e quindi porta il nome di Torquato, di Va tutto bene, di Fighting King. Sicuramente questi vantano partecipazione in contesti più impegnativi. Torquato secondo, Va tutto bene terzo, sui 1.800 metri di recente, in una prova vinta da Brazilian Jet e qui hanno tutte le carte regole per essere ancora protagonisti. Fighting King in chiaro progresso all'ultima, anche se in un contesto di minima. Il secondo è My Chef che oggi ritrova. Già mancavallo enormi. Armed Force 6 giornate e 3 papabili. Conciumea sta correndo bene ed è ben sistemata. 1 a 3 anni che si confronta con gli anziani, così come la novità attesa Light Go, che è da verificare sulla distanza selettiva. My Chef, ottima forma, resta su due successi consecutivi. My Harry ha ritrovato un'ottima forma. Prisoner of Love rientra, ma buonissimo, e quindi fa molto bene lo schema. Tra l'altro ben sistemato con 55 kg e mezzo. Stessa cosa e dicesi di carta vincente. Sempre molto bene a Siracusa, non ha sbagliato un colpo. Linea con Conciumea all'ultima è sicuramente la perizia. La perizia a suo vantaggio. Altro tre anni che va a confrontarsi con gli anziani. Quindi dal primo all'undici tutti si giocano almeno una chance. Proviamo a sentire ancora Stefano Bastante che è impegnato con My Chef. La quinta con My Chef è un cavallo che viene da due prestazioni ottime. Oggi alziamo un po' il tiro. Sempre sulla sabbia, un tracciato che lui gradisce. Però abbiamo molti avversari validi. Mi piace tanto il numero due Torquato e il numero cinque Armed Force. Premio Brooke, handicap di minima, chiudere il convegno. Tre anni ed oltre, selettiva la distanza, quella dei 2100 metri dalla pista piccola, 7 al via. Monte Cabir rientra da luglio quando affronta la prima uscita a Siracusa, facendo un N.P. in sabbia su 1800 metri, quindi prova in erba. Chanuar, soggetto alterno, questo maschio di Tamayuz, ma sicuramente ai mezzi se si ritrova un attimino può lottarla. Easterbound rientra. Royal Le Baiebvre invece affronta uno schema sicuramente congeniale. Qui potrebbe avere una buona occasione per ritornare al successo. With the rainfall, il cavallo regolare in forma, già vincitore sulla distanza e sul tracciato. Montreal invece è la seconda uscita a Siracusa, la prima affrontata sui 1800 in sabbia e poi il Corriere è rientrato finendo quinto in sabbia sul doppio chilometro. Vediamo a che punto sarà la sua condizione. Quindi prova che vede sulla carta come possibile base proprio Royal Le Baiebvre. Allora noi lo chiediamo a Raffaele Gambino che la conosce molto bene. In questa sesta corsa noi siamo impegnati con il numero 4 Royal Le Baiebvre. Sicuramente un cavallo che in erba ha una marcia in più. Siamo rientrati venti giorni fa nella sabbia appunto per mirare questa corsa quindi penso che abbiamo tutte le carte regola per fare una corsa positiva. Come sappiamo tutti ogni corsa ha la sua storia. Come seconda alternativa ti do Chat Noir, il numero 1 che scende nettamente di categoria e poi come sorpresa ti do il numero 3 Starbound. E con questo è tutto. Come avrete potuto vedere e ascoltare sono tanti buoni motivi per venirci a trovare all'ippodromo del Mediterraneo e per seguire il convegno di sabato 14 che vedrà l'apertura alle 15 e 10. Arrivederci.